Salve a tutti e benvenuti a questo breve video tutoriale in cui cercheremo di spiegare come realizzare una rubrica di valutazione utilizzando Google Doc e in particolare cercando di incorporare poi questa griglia di valutazione nel documento in cui essa dovrà essere utilizzata ai fini valutativi. Il punto di partenza, o meglio la precondizione, è aver accesso a Google Doc e soprattutto aver installato all'interno della suite di Google Doc un componente aggiuntivo vediamo qui, ecco, componenti aggiuntivi che si chiama Orange Slice che si è distribuito in due versioni una è la Teacher Rubric che consente al docente di impostare una rubrica e di effettuare le valutazioni un'altra invece che è la Student Rubric che serve semplicemente ad una revisione, ad una autovalutazione che lo studente può fare utilizzando appunto la rubrica di un proprio elaborato oppure ad una valutazione tra pari, peer-to-peer evaluation. Per creare la nostra rubrica dobbiamo attivare il componente aggiuntivo Orange Slice Teacher Rubric possiamo utilizzare varie lingue ma conviene utilizzare l'inglese dal momento che l'italiano non è tradotto in maniera corretta in questo prodotto attivando il componente aggiuntivo Orange Slice si apre una barra a fianco che ci consente di impostare la nostra rubrica passo passo in primo luogo ecco ci chiede i livelli della varie, della performance quindi sarebbero i vari livelli, quello che noi chiamiamo basso, medio, alto, insomma ecco e impostiamo se deve essere un livello, la progressione del livello ABC, quindi un livello discendente, vale a dire da eccellente e in giù oppure al contrario di livello ascendente, cioè dal livello base, dal livello minimo ai livelli più alto selezioniamo in questo caso il livello ascendente poi ci chiede di indicare i livelli di performance o secondo l'approccio tradizionale anglosassone, le varie categorie F, D, C, A, B, A eccetera oppure ancora con degli aggettivi deve fare di più, livello medio, livello buono, livello grande oppure in maniera più o meno creativa con gli emoticon oppure possiamo scegliere, e ci conviene, l'ultima voce I'll create my own, cioè io creerò da solo i miei andrò a scrivere nella tabella che verrà creato, autonomamente, i livelli passa quindi poi alla indicazione delle categorie, degli items, dei criteri cioè appunto degli indicatori, quelli che noi chiamiamo indicatori il programma propone in maniera standard, diciamo, degli ideatori con dei descrittori già predefiniti ma siccome questi possono non essere rispondenti alle nostre esigenze noi diciamo semplicemente che lasceremo in bianco anche gli indicatori gli item, appunto, i criteri perché li andremo a definire in maniera manuale e autonoma dopodiché diamo l'input per la creazione della rubrica che altro non è che la preimpostazione di una semplice tabella create rubric e abbiamo qui la semplice tabella che viene creata vuota appunto perché abbiamo preferito non inserire nulla dobbiamo stare attenti a lasciare questa indicazione rubric categories perché questa indicazione dice al programma che si tratta di una rubrica di valutazione e non di una tabella normale andiamo quindi a indicare qui sia i criteri, gli item, appunto che i livelli che i descrittori quindi innanzitutto per quanto riguarda, supponendo di voler creare una rubrica che riguarda la comprensione di un testo noi potremo utilizzare come categorie item i seguenti item ecco, comprensione dell'argomento dovremo inserire quindi una nuova riga inserisci una riga sotto e andremo a utilizzare come secondo item le indicazioni principali e secondarie cioè vogliamo valutare la capacità di uno studente di individuare le informazioni principali e anche completamente le informazioni secondarie come terzo item possiamo in maniera molto semplice indicare la competenza lessicale e come quarto item quarta riga inserisci una riga sotto gli elementi retorici e linguistici del testo questi sono i classici quattro parametri utilizzati in maniera più o meno varia per valutare la capacità di uno studente di comprendere un testo per quanto riguarda i livelli possiamo definire tre livelli di norma i livelli uscirono sempre tra i 3 e i 5 cominciando da quello più basso possiamo stabilire il livello principiante quindi principiante quindi principiante possiamo anche eliminare le ultime due colonne in quanto appunto non ci interessano volendo indicare servizi soltanto di tre livelli quindi lasciamo a tre le colonne e dimensioniamole in modo da poter avere una lettura insomma più agevole del tutto il secondo livello è quello intermedio e il terzo livello è quello eccellente naturalmente dobbiamo adesso andare ad indicare i descrittori allora per la comprensione dell'argomento avremo un livello da principiante quando l'alunno comprende semplicemente l'argomento è null'altro possiamo definire invece come livello intermedio un livello in cui l'alunno comprende l'argomento del test e il significato nelle sue linee generali il terzo livello più alto quello in cui l'alunno comprende anche i particolari non solo il significato generale ma anche i particolari per quanto riguarda le informazioni possiamo inserire la dicitura che lo studente individua poche informazioni principali ma non quelle accessorie o secondarie come livello intermedio possiamo inserire la descrizione secondo la quale il ragazzo sa individuare le informazioni principali e alcune informazioni secondarie e come livello alto di eccellenza diamo come descrittore la dicitura l'alunno sa cogliere perfettamente le informazioni principali e tutte le secondarie stabilire relazioni tra di esse per quanto riguarda il terzo criterio illessico possiamo dire che a livello principiante l'alunno non ha nessuna competenza lessicale o meglio ancora poca competenza lessicale quindi conosce pochi vocaboli diciamo che a livello intermedio l'alunno riconosce i significati base dei vocaboli più rilevanti il significato traslato solo di alcuni vocaboli essenziali mentre a livello alto indicheremo che l'alunno individua i significati di base e di traslati di la maggior parte o di tutti i vocaboli per gli elementi retorici e linguistici a livello base possiamo dare una descrizione di questo tipo riconosce alcuni elementi retorici del testo e utilizza una lingua semplice a livello intermedio qualcosa in più quindi la nostra rubrica recita individua diversi aspetti della struttura retorica del testo che rende testo che rende in una forma adeguatamente scorrevole e a livello avanzato indicheremo che l'alunno scriveremo che l'alunno riconosce tutti gli aspetti della struttura retorica e se ne serve anche per migliorare la comprensione del testo ora andando un po' abbiamo indicato alcuni elementi abbiamo composto la nostra categoria possiamo anche per quanto riguarda nella nostra valutazione dobbiamo adesso andare alla parte relativa al punteggio dobbiamo andare a dare peso i valori insomma alle varie categorie e ai vari livelli innanzitutto stabiliamo diciamo che la rubrica è ovviamente una rubrica di tipo analitico perché va a valutare le singole componenti della competenza di comprensione del testo e possiamo dare un punteggio globale complessivo diciamo di 20 punti di 30 punti o di 100 punti ecco diciamo di 30 punti e vediamo poi anche andando avanti le performance per quanto riguarda i punteggi ecco noi qui dobbiamo dare un valore a principiante a intermedio ad eccellente che vada da 0 a 7,50 punti uno di questi tre valori il valore eccellente deve essere ovviamente 7,50 7,50 a questi qui possiamo dare altri valori un valore di 3 e un valore di 5 possiamo anche dare un peso alle categorie cioè alle voci comprensione dell'argomento informazioni principali lessico elementi retorici in tal caso avremo una rubrica pesata una media ponderata e diciamo che nel caso in cui ci interessa soprattutto la capacità dell'alunno di cogliere il significato generale diremo che la metà ecco dell'importanza insomma per il 50% è relativa alla comprensione dell'argomento poi potremmo avere per l'altro 50% un 20% dato alla capacità di cogliere informazioni principali e secondari un altro 20% al lessico e un 10% agli elementi retorici e linguistici bene andando ancora avanti possiamo stabilire un extra credito del 5% ma questo lo possiamo anche dare in fase di correzione poi del compito oppure possiamo stabilire un penalty per esempio del 5% in meno nel caso in cui il compito venga consegnato tardi oltre la scadenza fissata e lasciamo perdere poi tutto il resto e a questo punto noi abbiamo compilato la nostra griglia qui possiamo dare il titolo di rubric di valutazione del testo di valutazione dell'abilità della comprensione di un testo e se vogliamo agire da un piano diciamo estetico impostiamo lo stile titolo rubric di valutazione comprensione dare una estetica diciamo al documento ecco sottotitolo rubrica comprensione del testo e salviamo il nostro documento in modo da poterlo ritrovare con il titolo comprensione del testo 1 ecco questa è la nostra prima tabella che resterà in archivio a questo punto noi abbiamo questa tabella che possiamo copiare e incollare questa rubrica in tutti i compiti consegnati eventualmente agli studenti in google classroom a seguito di assegni fatte e valutarli la valutazione il processo di valutazione è davvero molto semplice basta semplicemente cliccare su pulsante blu process grade valuta appunto processo di valutazione oppure smettere qui senza procedere alla valutazione e chiudere semplicemente con la creazione della nostra tabella cosa appunto che faremo in questo caso e in un prossimo filmato vedremo invece come procedere alla valutazione grazie per l'attenzione